È il bello, è il bello di tutto questo perché ti rendi conto che è tutta una tua scelta, che è veramente tutta testa Entri nella serie, entri nel vivo e quando stai là ti accendi come una cazzo di lampadina e dai il 110% E ti rendi conto che il corpo può arrivare molto oltre rispetto a quello che stai facendo Sì Sì